Uno stadio pieno tutti quanti insieme per la ricerca? Sì, sicuramente la ricerca poi con l'Istituto Candiolo ha raggiunto dei grandi risultati, sta andando avanti, è la seconda volta che riempiamo questo stadio, l'altra volta però io non c'ero, quindi per me stasera è stata abbastanza emozionante, anche perché una struttura come questa è difficile da vedere. Poi la Juventus ha appena vinto lo Scudetto, si sta preparando per l'ultimo gradino, per entrare veramente ancora di più nella storia, quindi è stata una serata particolare e oltre all'incasso speriamo che il 4-5 e il 5-4-0 porti un po' di fondi in più alla ricerca. e alla fondazione Teleton. Con le vostre partite avete raggiunto quasi 100 milioni di euro, e li raggiungiamo, li superiamo? Con i miei conti eravamo già oltre i 100 milioni di euro, però insomma, vediamo, la gente dimostra sempre molta partecipazione in queste cose, quindi speriamo che anche questa volta sia così. Ma la partita del cuore ti fa volare? Ma certo che mi fa volare, molto, mi fa volare! Grazie, ciao a tutti!